Musica Nel 2013 la Gran Bretagna avverrà una vera e propria rivoluzione. Sarà infatti vietata la remunerazione sui prodotti collocati dai distributori. E se ciò avvenisse anche in Italia? Certamente il cambio regolamentare che sta avvenendo in Gran Bretagna è importante sia per la Gran Bretagna sia per tutta l'Europa. Tant'è vero che anche il dibattito sulla revisione della MIFID, la cosiddetta MIFID 2, ha tratto origine tra l'altro anche dalle proposte che provenivano dall'Inghilterra. A cui si sono aggiunti peraltro anche altri paesi del nord Europa. Nell'Europa meridionale, particolarmente Italia e Francia, vi è un po' di opposizione a questo. Perché il modello di distribuzione dei prodotti finanziari è fortemente centrato sulle reti di distribuzione che vivono attraverso questo sistema di retribuzione basato sul collocamento dei prodotti. Quindi è chiaro che ogni cambiamento deve tenere conto della realtà esistente che nel nostro paese è molto diversa che in Gran Bretagna. Devo dire che però anche in Gran Bretagna ci sono dei segnali di cambiamento importante ma anche molte resistenze. Perché anche in Gran Bretagna una buona parte dei consulenti venivano rimunerati tramite retrocessioni di commissioni. E quindi è chiaro che l'impatto di questa nuova normativa non sarà indolore anche per il loro mercato. L'albo dei consulenti finanziari continua a latitare. Quali conseguenze comporta questa situazione? Certamente il ritardo dell'avvio dell'albo, che anche sono più di tre anni, perché sono ormai dal 2007, sono anche di più, è assolutamente negativo per lo sviluppo del settore della consulenza nel suo insieme. Perché non crea un clima di certezza per gli operatori e lascia ancora sostanzialmente al margine una professione che invece potrebbe portare molta innovazione sia nella consulenza appunto alla clientela, sia privata che istituzionale. E anche un nuovo modo di approcciare i clienti e anche di remunerazione, perché ovviamente i consulenti sono remunerati direttamente dal cliente, non tramite la vendita dei prodotti. Quindi questa mancanza di completamento del processo normativo non fa bene al mercato. Devo dire che però almeno un parziale successo c'è stato, perché questa primavera è stata finalizzata l'approvazione dell'ultimo tassello normativo che riguardava i requisiti degli esponenti delle società di consulenza in forma di SRL e SPA. E quindi a questo punto, essendo stato definito completamente la cornice normativa, a questo punto si tratta soltanto dell'ultimo atto che è quello che deve fare il Ministero delle Economie e della Finanza, cioè di nominare l'organismo di gestione dell'albo che è previsto dalla legge e che si occuperà, curerà la nascita vera e propria dell'albo dei consulenti indipendenti. Se da un lato le società che offrono consulenza a parcella sembrano in stand-by, dall'altra le reti di promozione finanziaria che si sono lanciate in questo servizio iniziano a ottenere dei buoni risultati. Qual è la vostra opinione su questi competitor? Io lo vedo assolutamente positivamente perché io penso che all'ilà del veicolo e del fatto che provenga da una banca, da promotori, da consulenti, il fatto che si sviluppi una consulenza alla clientela professionale è sicuramente un fatto positivo. Certamente è chiaro che quando la consulenza viene collegata a un servizio invece di distribuzione di prodotti, vi è il tema dei conflitti di interesse, del fatto che ovviamente la consulenza può non essere oggettiva, però questo non significa che sia inutile e penso che anche se le reti produttori sono anche collocatori di prodotti, il fatto di proporre alla propria clientela un servizio di consulenza basato sulle parcelle è sicuramente un fatto positivo e quindi dal nostro punto di vista vediamo molto bene a questo sviluppo.